Le scorte di guanti monouso negli ospedali si stanno esaurendo e il rischio è che saltino gli interventi chirurgici. È la denuncia della CGL che fa un appello alla Protezione Civile Nazionale affinché si possa intervenire al più presto. Da diverse settimane in tutti i servizi dell'Asla Toscana Centro il personale sanitario combatte con la carenza di importanti dispositivi di protezione come guanti e camici monouso, spiega il sindacalista Simone Baldacci alla Nazione. Se la centrale acquisti della regione, Estar, non troverà soluzioni tampone, si potrebbero registrare i riservizi nelle sale operatorie con il concreto rischio di annullamento di sedute. Negli ospedali toscani, dopo l'emergenza Covid, si cominciano nuovamente a registrare casi di infezione batterica anche da New Delhi, contrastabili solo con l'uso massiccio dei dispositivi attualmente mancanti. Per questo urgono provvedimenti, prosegue Baldacci. Non è pensabile affrontare una seconda ondata di Covid in autunno con i magazzini sguarniti di questi presidi. Per questo la CGL chiede un intervento immediato da parte di Estar per reperire le risorse necessarie.